Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Come avrete letto dal titolo oggi vado a fare una full face costosi versus alternative dupe low cost Quindi qualcosa che ci assomiglia molto, ha preso ispirazione e ha copiato Ma che costa meno, che quindi ci può, vi può dare un'alternativa abbordabile Perché mi vedete già apparecchiato? Perché oggi voglio fare un giochino con voi Guardatemi bene, a me gli occhi change, l'acqua mi bagna, il vento mi asciuga Stoppate il video e io palesemente ho metà viso con dei prodotti, metà viso con degli altri Stoppate il video e scrivetemi da quale lato, specificate se parlate dal vostro lato o dal mio Da quale lato secondo voi ho i prodotti costosi e da quale lato secondo voi ho i prodotti economici Facciamo questo micro giochino, se l'idea vi piace come sempre lasciate un like di sostegno Io vi faccio guardare un po' tutta questa situazione Farebo il vettore Buon video Ok eccoci qua, da questo lato andrò con la versione high end dei prodotti E da quest'altro lato utilizzerò tutte le alternative low cost che ho trovato Come palette occhi ho trovato questa somiglianza con la instant look of love in palette glowing beauty di Charlotte Tilbury Mamma mia che capelli Che è quella che abbiamo recensito anche sul canale Vi lascio poi tutta la playlist dei video di Charlotte Tilbury qui linkata in alto se volete guardare un po' cosa ne penso del brand E dalla parte low cost ho trovato su Maki Beauty, anzi me l'ha ammazzata allora in realtà Codice sconto di course 10% Questa qui di Milani che si chiama All Inclusive Eye Cheek HH Palette Stesso concept, le colorazioni sono distribuite in maniera diversa e leggermente differenti le tonalità Quindi andiamo a realizzare un look chiaramente nude E inizio utilizzando la palette di Charlotte da questo lato Vado a prendere la tonalità questa qua da bronzing e la utilizzo su tutto come mio colore di transizione insomma Raga forse ho trovato il modo per non far venire Chloe mentre registro Darle un giochino Vi farò sapere, anzi lo scopriremo insieme come andrà a finire E praticamente vado a scolpire facendo così piano piano Porto leggermente fuori ma non troppo Poi vado a prendere con un pennello estremamente piccolo questa tonalità qua E vado a fare tipo uno sketch Uno sketch di angolo esterno Fai ciao ciao ai nostri amici Non riesce a girarsi Quando non riesce a girarsi per come le tartarughe sulla pancia fa bordello Oh! Ah no non riesce a girarsi In plus ha il giochino qui E non riesce a prenderlo Riprendo il bronzer con questo pennello e vado a sfumare leggermente non troppo questo sketch Ok adesso vado a prendere le due tonalità luminose Queste qui, queste due qua Le spatascio lungo tutta la palpebra Inizio prima con Bryden qua come base per vedere se mi piace E poi in caso applico l'altro come top coat Da un bel senso di pulizia questo colore Non è chiaramente lo shimmer più bomba bello che abbia mai visto Sposa un po' la questione della palette tattica Make up veloce e tutto quanto Ok viene una cosa tipo così Applico il top coat che è quell'ombrettino un po' più scuro tutto Sbrillucci così Per dare l'effetto wet Se il doppio strato in combo non è la cosa migliore L'effetto bagnato lo stiamo portando a casa Che è la mia cosa preferita di shimmer Scusate se sentite un goblin che lotta ma raga È la nostra cara amica Che si arrotola su se stessa Ok ci sarebbe stato molto meglio un nero Ma non c'è Stessa cosa che avevo riscontrato anche l'altra volta Ora vado dall'altro lato Prendo come prima Ups ho sbagliato Prendo come prima il bronzer Che è molto più giallo in questa palette Rispetto a quella di Charlotte Tra l'altro rido perché sto utilizzando qui Una palette di Charlotte Tilbury Un pennello di Charlotte Tilbury Che non ho usato mentre utilizzavo la palette di Charlotte Tilbury Sto applicando la tonalità scura Che in questa palette è lui Come potete vedere già le colorazioni sono abbastanza diverse Queste tonalità qua sono un po' più gialle Hanno più una componente di giallo marcato E più chiare In questo caso a differenza dell'altro lato Abbiamo una tonalità brillante Un blush brillante Quindi non abbiamo quella tonalità satinata Che ho applicato di qua come base E quindi vado direttamente con l'ombretto luminoso qua Che si chiama proprio Shadow Che già vedo che è diverso Perché mi sembra un rose gold bello pieno Adesso proviamo La prima volta che provo gli ombretti di Milani È estremamente rosa raga Potete già vedere che l'effetto sarà Cavoli Completamente diverso Niente Stavo per dire una cosa Don't say Hanno preso proprio l'idea di Charlotte Cambiando i colori Dello serie copio Ma non troppo Comunque il look Occhi non è terminato Devo aspettare di mettere il correttore cipre Per finirlo Perché voglio fare l'eyeliner interno I colori raga sono totalmente diversi Ora passo alla base viso Prima di andare ad applicare il fondotinta Ho due scelte molto interessanti Sono due perfezionatori di incarnato Con dei nomi diversi L'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury Che è il prodotto di Charlotte Tilbury Il più bello secondo me che lei abbia E questo qua che è È un tinted glow booster di XX Revolution Che viene spacciato come dupe L'ho già provato su Instagram Se vi interessa lì faccio un sacco di reel In questo stile qua Diciamo insomma E li vado a provare Da questo lato Charlotte Non abbondo troppo Lo metto solo qui sullo zigomo Questo raga Is the best Perfezionatore Che ci sia Chloé Vedete già come ha dato Una botta Mamma quanti brufoli Alla base Adesso vado a utilizzare Questo qua Di XX Revolution Che è l'applicatore a pompetta Però vedete che ha esattamente La consistenza di questi prodotti Perlati E nella tonalità Blaze Mentre l'altro era 4.5 Vedete che è anche lui È messo nella categoria fondi Raga ma Altro lato del pennello Mi sto trovando bene A stenderlo con questi pennelli qua Perché ne assorbe un po' Devo dire Così fa ancora meno strato Però lo diffonde Very very bene E se posso dire Non c'è paragone Nel senso che La luminosità di Charlotte Del prodotto di Charlotte Dell'Hollywood Flawless Filter È molto più lampante Molto più ricca Molto più riflettente La perla è più sottile E meno texturizzante Secondo me Ovviamente ha più base e colore Rispetto alla tonalità Che ho scelto qui Ma quella è stata proprio Una scelta di colori E la cosa bella di Charlotte È che ha un'aderenza notevole Non c'è bisogno di lavorarlo Molto bene Mentre quello di XX Revolution Per come l'ho provato io Ha bisogno di un po' più Di sforzo Un po' più d'amore Diciamo Passiamo ai fondotinte Ho paura raga Perché vado a provare Il Good Apple Foundation Di KVD Vegan Beauty E KVD Beauty Regina del male Quello che volete È andato super mega ultra Iper virale Su TikTok Per le ragioni sbagliate Secondo me Quello del light 018 Molto chiaro E il dupe di Milani Questo qua Viene spacciato Come un Conceal Plus Perfect In realtà è un balm colorato Tonalità 208 Vi lascio poi tutti i ring Qui sotto in info box Se vi dovesse interessare L'acquisto Allora Io che ho già utilizzato Questo prodotto È un balm Colorato È estremamente pigmentato Se ne prenevate Un chilo Quindi io lo prendo Col dorso della spugnetta Lo scarico E vado Vedete E vado a Tamponarlo Nelle zone Dove voglio Un po' Uniformare la pelle Così è super Gestibile come prodotto Tuttavia Non lo consiglierei Per la mia tipologia Di pelle Perché essendo Molto idratante Essendo un balm È Ultra Lucido Già da poco Su di me Magari lo possiamo Vedere direttamente in video Ripende da quanto Mi spiccerò o no E questa secondo me È la metodologia Più Indicata Per me Per utilizzare Questo prodotto Su di me Ovviamente Perché Raga Se anch'io prendo Un correttore E Utilizzo Un correttore Mediamente ceroso In balm In pot Utilizzo Un pennello Molto fitto Faccio la swipe Faccio Oh madonna È super coprente È ovvio Raga Che sia super coprente Se ne metti un chilo Con un prodotto Che non assorbe niente È più che normale Così L'effetto Mi sembra anche gradevole Vi dico la verità Rispetto a come lo conosco io Con quel pennello Insomma Adesso dall'altro lato Vado ad utilizzare Milani Nella stessa modalità Qua raga Ve lo giuro Se non fosse per il colore Che questo è più chiaro E giallo E questo è più pelle Sono proprio uguali Allora raga Questo è l'effetto Di entrambi i fondotinti applicati Al di là del colore Sono pretty much The same thing La stessa cosa Forse Dalla parte di Che vi dino E ho applicata meno Per il resto Livello di texture Sensorialità sul viso Stessa roba Correttore Come correttore Vado ad utilizzare Da questo lato Che è quello Dei signoroni Quello di Too Faced Il famosissimo Board This Way Dall'altro Non il mascara Questo Dicevo E dall'altro lato Questo qua Di Milani Come mai Mi è venuta in mente Questa cosa Ero su Douglas Che stavo facendo I vari giri E ho visto Questo qua È un piccolino Il conceal Plus perfect Di Milani Ho detto cavoli Ma hanno lo stesso Pack di quello Di Too Faced Raga sono praticamente Identici Senza gli orpelli Di Too Faced Chiaramente Ma la situa È tipo Quello In versione slim Quindi ho detto Perché no E allora ho preso Light beige E light beige Che c'è anche La stessa referenza Colore Spoiler Questo è un po' Più caldo Quindi As usual Vado prima Con la parte Signori E' un piccolo Too Faced Light beige Comunque Il Il Born This Way Di Too Faced È sempre Immensamente Performante Purtroppo Poi sono usciti Altri Come si può dire Altri correttori Quindi la mia attenzione È andato su altro Per anche stare al passo Con le vostre richieste Però è top E vi dirò la verità Comunque È più bella La base Da Milani Infatti Mi sento Oddio Perché Si è separato Leggermente Quello di KVD Infatti Ho bisogno Di Temporare E miglior assitua Non vedo l'ora Che si affine i video Solo per pettinarmi Ecco Di Milani Raga La cosa che già Vi posso anticipare Che ha profumazione E che ne occorre Veramente Veramente Poco Ne ho già messo Anche troppo Sia perché Ha una coprenza Sufficiente Sia perché È un pellettino Più È un po' Più evidente Di Too Faced Come correttore Guardate raga Quanto Sono comprendi Entra Cioè Sembrano Passiamo al blush liquido Prodotti mega interessanti Secondo me A livello di comparazione Blush liquido Di Denona E blush liquido Di Milani Milani La fa da padrona Cheeky Coral E Tan Allora raga Il blush liquido Della Denona L'abbiamo già provato Insieme Non mi ha fatto volare Cioè è bello Dipende Cosa vi piace È super acqua fresca È molto luminoso Sottile E acquoso Come finish Però Veramente Sottile E si sfuma In due secondi E Da quest'altro lato Invece Vado a mettere Quello di Milani Che si presenta Sempre In consistenza liquida Però Un po' più pigmentato Quindi ne ho messo Un quintale Vado Piano piano La cosa Beh guardate quanto È riflettente Anche questo blush È stupendo La cosa bella Di questo blush È che Sembra Mega pigmentato Pena viene esteso Ma poi si fonde Nella pelle In una maniera Eccezionale Cioè Stupendo Ed ha proprio Quell'effetto Ultra glow E wet Cioè guardate la pelle Anche di qua Guardate la pelle Quanto è Luminosa Stupendo Chiaramente Il prezzo È assai inferiore E vi dirò la verità Io da qua Preferisco Milani Come bronzer Andiamo dal lato Della ricchezza Ovviamente Da Charlotte Tilbury Che è questo bronzer È casa ormai E da questo lato Sempre l'altro giorno Ero su Douglas E mi sono imbattuto Su questo prodotto qua Di Milani 01 È la colorazione Rich Beige È stato spacciato Come un fondotinta Polveroso In polvere Io non Cioè Fondotinta in polvere La colorazione 1 È così Però Tutta questa situa qua Mi ha ricordato Estremamente La versione Cheap Raga No offense Di Charlotte Cioè raga Cioè anche la bordatura interna Charlotte Ed è più scuro Cioè la 01 Ed è più scuro Di Charlotte Che è la 2 Comunque Li andiamo a provare Ho ripulito il pennello E vado qui Questo pennello È bellissimo È di Sigma Tapered Face Bellissimo E mi mantengo In questa zona qua Scaldo molto bene Ma comunque Questi colori di fondotinta Mi ammazzano Cioè Quando io ti vuoi fondotinta chiaro Sono 600 volte più cesso Già subito un po' di bronzing E adesso vi Faccio vedere L'applicazione di questo Prodotto Qui E ne prendo raga Perché l'ho usata La prima volta Vedete Cioè guardate Quanto è scuro Ed è la 01 Ma chi volete Darla a bere Questi sono Dei bronzer Copia in colla Paro paro Sto sempre applicando Il lasso povero Con Il pennello Di Charlotte Rido Allora Prelevato In quantità Terroristicamente Piccole Però raga Vi farei vedere Il reel Che ho fatto Non so se pubblicherò Quello Perché la reaction In diretta È proprio impagabile O se gli voglio dare Un po' di decorazione Non so Fatemi sapere voi Insomma Però Debo dire Che si è difeso Benissimo Tuttavia Per me Il bronzer Credo che rimarrà Quasi sempre Team Charlotte Perché è proprio Ha una grana Più raffinata È più sottile Burroso Ok Ho fatto anche L'angolo interno Nel mio look occhi Già che ci siamo Vado a utilizzare I blush Che sono contenuti All'interno Delle palette viso Per andare a Dare un booster Rosato Diciamo Al blush glow Che ho preso Che ho utilizzato Prima quello liquido Quindi vado Con quello di Charlotte I pennelli Chiaramente Come vi ripeto Sono già Satti sistemati E questo qua È un bello Power Di qui invece È molto più rosa Si vede proprio Era una di quelle cose Che vi dicevo Quando stavo provando La palette Che le colorazioni Sono diverse Però È un rosa Un po' più leggero Quindi non va Ad appesantire Troppo Anche se a me piace più L'effetto bruciacchiato Di la vi devo dire Andiamo con i mascara Non sono necessariamente Dupi In questo caso Da questo lato Utilizziamo Questo qui Di Chiara Ferragni E a quest'altro Quello di Essence Non si vede troppo Ma quello di Essence Che c'era già prima Chiaramente Ovviamente Non è che si è ispirato Secondo me Proprio no Però Glitterato Ultra glitterato Andiamo prima Nel mascara di Chiara Che Entrambi li ho provati Ovviamente anche su Instagram E guardo qui Non userò ciglia finta Perché Cavoli Rispetto alla prima volta Che l'ho utilizzata È migliorato molto Ha anche il volume Ora Prima era Solo disciplinante Chiara non è È il mascara più volumizzante Che conosca È il più bello Che conosca Però Già dall'inizio Lo reputavo Molto carino Come mascara O comunque Non per niente Un flop Ecco Insomma Ok Questo qua L'effetto di Essence Totalmente diverso Come vi anticipavo Anche bello Zozzo Devo dire Non lo ricordavo Più pulito Ora faccio Le Ora faccio Le soparsiglie Eccoci Qui passiamo Agli illuminanti Questa secondo me L'ho letta in giro Su internet È molto azzardata Come Di upstitua Amresi Di Anastasia Che è un cifro Che non uso Ma che adoro Contro l'illuminante Di Sephora Che generalmente Comunque a prescindere Da questo video È un bellissimo Illuminante Non capisco perché Non se ne parli abbastanza Però è molto figo Come sempre Iniziamo Dagli attorocati Quindi Amresi Che è sempre Il magicissimo Costruibile Luminoso Sottile Perfetto Shade E Mega Stratificabile Ora andiamo Con quello di Sephora Questa tonalità Si chiama Delicate glow Bo Secondo me Troppo scura Chissà Però Vi giuro Ok è scura Ma guardate che Bo Ma cosa dite Sephora Sembra un po' Più glitteratino Che sapete A me piace Molto Come sito Comunque A prescindere Da Amresi Come dicevo Prima È veramente Un ottimo Illuminante C'è Per quello che costa È super bello Che difficile Siamo Grazie di arrivare Alle lips Se provo Questa combo Che ho scoperto Provato Più o meno Simile Su Instagram Cosh Di Kylie Contro Optimistic Di Astra Inizio da Kylie Sono stati riformulati Questi rossetti Per me la formula È decisamente migliore Ma tuttavia Non consiglio Minimamente Di fare più Di una passata Perché sennò Tornano ad essere Un po' più secchi Di quanto a me piaccia E nel mentre Che asciuga Utilizzo Optimistic Di Astra Che è il mio colore Preferito Dei nuovi Rossetti Con acido YOLO Eccoci qua ragazzi Il look terminato Specchio la mano Allora Il correttore Di Milani Si è un po' mosso Forse Credo sia un pelino Troppo Idratante Per me O comunque Devo provare A fissarlo Con del soft baking Ma andiamo in ordine Allora Paletta Assoluto Paletta occhi Assolutamente Charlotte Molto più bella Molto più deep Molto più Intensa Milani È praticamente Lo stesso concept Però è Molto più leggera Molto più smorta Ok nessuna Delle due Ok neanche quella Di Charlotte E ok manco Quella di Charlotte È la mia palette Preferita Però tra le due La la voto Mentre come base Perfezionata Come perfezionatore Devo dire che sono Come base Devo dire che Tra Hollywood Flawless Filter Compagnia Bella Questa qui Perché Il fondo Di Milani Sorry Not Sorry Mi piace molto Di più Bronzer Charlotte Illuminante Mamma mia Però sapete che Il correttore C'è Copre di più Milani Mi sa Non lo so Sono molto in difficoltà Forse non vorrei votarlo L'illuminante Mascara Devo dire Che avrei fatto Un misto Fra i due Avrei voluto Il volume di Essence Con la disciplina Di quello Di Chiara Ferragni Prostetto Ah a proposito I restetti Si sono asciugati La parte Di Kylie Ha una componente Un po' più Satura E rosata Di poco Mentre quello Di Astra È un po' più spento Un po' più nocciola Preferisco Astra Cioè le labbra Da lato di Astra Sono meno segnate Bene amici carissimi Questo è quanto Spero che il video Vi sia piaciuto È stato lunghissimo Da registrare Quindi praticamente Mi sto addormentando Solo Sono stanco Ristarmi a sentire Se il video Vi è piaciuto Lasciate un like E un commentino Qui sotto Scrivendomi Qual è la parte Che preferite Se il lato Costoso O il lato Io come al solito Vi ringrazio Per aver guardato Questo video Vi voglio sempre Lo stacco di bene Vi mando un bacione Ci vediamo al prossimo Che se tutto va bene Sarà venerdì Che se tutto va bene Che se tutto va bene Che se tutto va bene Grazie a tutti